Siamo allo sport, volley buone notizie per la Diatec Trentino che potrà giocare la Champions League anche nella prossima stagione. Massimo Mazzalai. Immagini del 2009 a Praga e della prima storica vittoria in finale di Champions della Trentino Volley. 3 a 1 ai danni del Salonico. Erano i tempi di Kaziski e Stoicev. I tifosi scesero in piazza e seguirono altre due vittorie di fila. Un'occhiata all'album dei ricordi perché c'è una buona notizia anche per i tifosi di oggi. La Cev ha ammesso Trento alla prossima Champions League. Sarà la decima partecipazione al torneo continentale. Fra i requisiti richiesti il piazzamento fra le prime cinque di Superlega e la partecipazione ad almeno due delle ultime tre edizioni. Ai primi d'agosto il sorteggio per definire le avversarie nei preliminari che si giocheranno probabilmente in ottobre. La Superlega dovrebbe cominciare invece il 6 o 13 settembre. La società del presidente Mosna accoglie la notizia con molta soddisfazione. Considerato anche l'elevato tasso tecnico della squadra che aspetta ormai solo l'ufficialità dell'ingaggio del centrale serbo Podraskanin e del martello brasiliano Lucarelli. Una bella notizia naturalmente anche per lo sport provinciale che vede le due squadre di punta nel volley e nel basket portare il nome del Trentino a livello europeo. Infine una buona notizia per i tifosi della Trentino Volley che sarà in assi di partenza della Champions League anche nella stagione 2020-2021. Oggi la Federvolley ha comunicato che sarà proprio la società di Via Trenner la quarta formazione iscritta, la massima competizione continentale per club facendo seguito alla decisione di mercoledì della CEV che estendeva la partecipazione alla competizione ad un'ulteriore formazione tra quelle nazioni che possono vantare il ranking più alto nelle coppe europee. Il cammino della squadra trentina nel torneo partirà in uno dei tre turni preliminari con modalità e sorteggio che verranno resi noti a metà agosto. Questi determineranno le ultime squadre qualificate per la fase a Gironi a cui sono già messe Civita 9, Modena e Perugia.